poco risultato com'era? è dura penso c'era il vento contro quando si è partita la volata le gambe erano quelle che erano però dai quarto sono altre volate riproveremo più avanti la caduta? la caduta non lo so, ho sentito che è successo dietro ma spero che non ci sia fatto male nessuno bravo grazie grazie